Calcio di rigore, ovviamente era calcio di rigore, però l'arbitro non si fa vedere deciso a correre, a inticare il dischetto e crea solo confusione. Adesso calcio di rigore. Rete, rete, anche se è stato toccato dal portiere, realizza. Ecco, gol, gol. Chi l'ha fatto il gol? Gianluca Malbone, il 4 a 3, giusto? Vai Enrico, riscaldati. Te lo puoi mangiare.